Eccoci in via Santa Caterina 30 da Alessandria, sede del Dipartimento Ricerca e Innovazione che si colora di azzurro e di blu grazie a Lele Gastini, autore di un murale che si snoda lungo tutti i corridoi della sede. Come è nata l'idea e che cosa si vede? Allora, dopo anni ormai di collaborazione con l'azienda ospedaliera Solida per la Ricerca, nel 2023 mi hanno chiesto di realizzare questo corridoio, questo lungo murales che è appunto incentrato sul tema della ricerca, dell'innovazione e ho voluto appunto mettere come temi principali la connessione globale, l'innovazione tecnologica, però soprattutto anche la figura della donna come ricercatrice, come protagonista di questo campo. Appunto ho usato dei blu, delle tonalità di blu, invece del solito bianco e nero e mi sono divertito ad andare appunto a immaginare un futuro che credo sia in mano alla scienza e alla ricerca. Senti, quante tolle di vernice, quanti chili? Non è facile quantificare, sicuramente molto colore è andato, i lavori sono durati circa un mese tra questa parte e l'altra parte, diciamo l'altra zona, è stato interessante lavorare qui e conoscere i ricercatori e devo davvero ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità.